Se non si decido a fare la tua volontà, non succederà mai più, te lo prometto. Te lo prego, adesso non ci abbandonare. Testone, aggiungi un po' sta tavola, sto arrivando! Testone, aggiungi un po' sta tavola, sto arrivando! A presto! 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 Allora buonasera a tutti! Buonasera a tutti! Buonasera a tutti! Buonasera a tutti! Una sera un po' particolare! L'avrete notato! Qua e la ci siamo un po' tutti commossi con difficoltà respiratorie! Ma non c'è nulla di grave! Anzi, lui lo sanno lui in realtà ma in realtà è questo noi festeggiamo qui a Bologna oltre tanti anniversari rispetto allo spettacolo in sé quindi abbiamo aggiungito posto a tavola orate due anni fa questo teatro venne aperto per aspettare aggiungi un posto a tavola ovviamente col mio cosi chiamano? con la Giorgia Guigli che voi vorremmo immaginare io festeggio la mia oggi mia 300 seconda reddita con la tonaca dell'edizione che è stata fatta e chiudiamo chiudiamo il nostro primo anno di questa edizione qui proprio a Bologna con oggi la nostra ultima reddita di quest'anno ecco, non definitiva, di quest'anno e quindi ci ha preso un po' a tutti l'emozione la realtà è questa che quando ci sono tanti amici che lavorano insieme che partecipano allo spettacolo diventa piano piano un grande carrozzone che è una specie di famiglia abbiamo il nonno abbiamo tutti con lui che tanto ci chiamo Aramino vedete il capello e quindi diciamo si crea un'atmosfera quando soprattutto le torne sono lunghe ma con tanta gente per bene che ama fare il proprio mestiere lo fa al meglio che può ovviamente non di più di quello però noi ci abbiamo provato ed è stato un bellissimo primo anno ringrazio altro anno che ci ospita e vorrei ringraziare prima che faccia una gaffa ulteriore che ho fatto alla sera della prima Roma cinque mesi fa il primo che ringrazio è Paolo Lanzaidini il nostro amministratore ovunque lo sia grazie Paolo doppiamente visto che ha mancato la sera della prima Roma e poi i nostri tecnici perché è veramente lo spettacolo voi dovreste vedere cosa accade più dietro non davanti capite davanti del nostro Matteo da loro Paolo venite ragazzi venite 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 ragazzi venite venite tutti 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 buona andiamo Luca Sanfiti Cristo venite la nostra costrucissa e Sarta la nostra Francesca venite venite ragazzi il nostro Fabio Diurgen Claudio e alla alla Fonica il nostro San Engineer Franco Patimo thank you 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 e inizio sembra sempre che io mi dimentichi qualcosa che come dico sempre i vostri immagini io sono rimasto il figlio di però io ho 50 anni ormai che dico mi trattano sempre come se fossi una specie di persona badante Allora, ho nominato l'audio perchè è l'ultimo che ho detto Fabietto, che è il nostro tecnico audio del palco. La sopra abbiamo Aleluci, capitanato dal nostro amico Don Masperina, Cianfa Cianfoni, la sopra. Grazie, bravissimi, bravissimi. E' il nostro Sergio, la serie di persone che è venuta con noi. E' un grazie a Carlo Vittò e al teatro Brancaccio di Roma, Alessandro Copardi. Diciamo che i suoi figli, in giro del dettaglio di questa meraviglia, alla quale noi speriamo di aver fatto tutto l'onore possibile e immaginabile. Ecco questo, se hai messo qualcosa? Qui penso che non ce l'hai, non può stare la sola. No, dico semplicemente che il principale di tutto siete tutti. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.